Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 29 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. La salute vien dal piatto. Ormai è cosa nota, la salute vien dal piatto, ma poiché ce ne si dimentica troppo spesso, la luna in sperimentalista in seconda casa, in trigona venere, bella e buona, vi fanno trovare le dritte sulla stampa di settore o attraverso le chiacchiere con l'amico erborista, ogni volta che entrate nel suo negozio ne uscite carichi di prodotti. Tutti utili, ma volti anche a farvi spendere quando potreste trovare alternative, il banchetto dell'ortolano ha già tanti rimedi naturali, come ricorda il vecchio adagio la salute vien dal piatto. La coppia è pervasa da una forza straordinaria che si manifesta in vari modi, il vostro partner lotta per avervi ed è pronto ad ogni sacrificio pur di non perdervi. Tenacia e passione nei sentimenti, capacità di sviluppare il rapporto di coppia. Nuova vitalità per i single che potrebbero lasciare il loro stato ben presto animati da una forza di volontà straordinaria. L'amore avanza tra tante piccole difficoltà e fraintendimenti, in qualche caso sta venendo a mancare la naturale sintonia di coppia. I vostri sforzi potrebbero essere premiati, le vostre attitudini, la vostra buona volontà potrebbero regalarvi dei successi meritati. Amore ancora con luci ed ombre dovute a mercurio che blocca la comunicatività con il partner. Regalati qualche capo di abbigliamento nuovo. Trascorri la serata con G amici. Avrai a che fare con persone enigmatiche. Cerca di evitare pettegolezzi. Proverete oggi un certo imbarazzo nel riconoscere di fronte agli altri di aver sbagliato qualcosa. Siate umili nel riconoscere i vostri errori ma non esagerate. Sarà meglio che iniziate a pensare di mettere da parte qualche pissola somma che potrebbe rivelarsi utile, invece di chiedere un finanziamento o un prestito potreste pensare di risparmiare di più in modo da avere a disposizione le somme giuste al momento giusto. Venere vi sorride, insieme a una luna decisamente a voi favorevole vi regalerà attimi di intenso romanticismo. Anche le pietre si scioglieranno. Cielo oggi piuttosto tempestoso che porta con sé tensioni e nervosismo. Dovresti cercare di tenere a bada l'orgoglio se vorrai portare a termine quello che ti sei prefisso. Ottimo intuito oggi. Vantaggi da assicurazioni, banche, soldi di altre persone. Promuovi le tue idee e cerca di farlo mettendo in evidenza le tue qualità. Tenderà invariabilmente a scegliere un partner che sappia aiutarti a comprendere il tuo bisogno di progredire, perché un supporto emotivo è fondamentale per la riuscita dei tuoi sforzi. Previsione dei transiti gratificata da Giove in splendido aspetto per il vostro segno a infondervi una bella serenità interiore che mettete a frutto nella gestione di situazioni complicate presente all'interno del vostro gruppo di parenti. Un grazie al vostro astro guida venere se siete un magnifico esemplare di bellezza e benessere, sapientemente combinati, non solo da mamma natura, ma anche da un buon sistema di vita e da un'alimentazione regolare. A farvi buon gioco la luna in gemelli, purtroppo, però, la sua morigeratezza non si estrinseca alle spese dove invece date prova di leggerezza. A rendervi smodati la quadratura in gioco tra la bianca signora e Nettuno, che vi fa perdere la bussola, cedendo alla forza di effimere voglie. Amore ed eros. In coppia il sentimento lo esprimete più con le premure che con le parole, che oggi vi suonano banali, trite e ritrite. Appoggio e dritte sostanziali anche agli amici, la parola chiave è scambiare e il lato buono delle susseguenti crisi economiche è che riporta in auge i contatti umani. Attenzione a non esasperare quel lato possessivo, geloso che in molte occasioni può manifestare il vostro segno. Fate attenzione a non lasciarvi prendere dai vostri tipici attacchi da tori da corrida. Attacchi che vi fanno vedere letteralmente rosso, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Il vostro è un segno femminile, di terra, primaverile. Governato dalla sensuale Venere e dal primo pianeta che si trova oltre Plutone, per il momento chiamato proserpina, il toro è gaudente e razionale, ma normalmente ha anche un cuore costante. Anche Giove si trova in felicissima posizione ed almente nel vostro segno e tutti questi corpi celesti collaborano a fare di voi la persona generosa, espansiva, proprio col cuore in mano, quale voi siete. Lavoro e denaro? Tutto regolare, lavorate di buona lena e guadagnate il giusto, ma la vera soddisfazione non vi deriva dalla pecunia, piuttosto dal piacere di svolgere un'attività professionale in linea coi vostri talenti. Arte, estetica, moda, intrattenimento, vi si attagliano a pennello, specie se la vostra attività a contatto col pubblico implica gentilezza e presenza, vi piace presentarvi nella vostra forma migliore, cogliendo negli occhi della clientela un lampo di ammirazione. Correte come lupi oggi, specie se siete nati nella terza decade. Chi vi ferma più? Con urano nel vostro segno, ormai da diversi anni, l'attivismo che dimostrate è quasi frenetico, impellente. Ogni tanto, fermatevi e riposate. Benessere. Golosi di assaggini, stuzzichini, pasticcini, tutto ciò che è piccolo e appetitoso vi intriga, mentre il piatto riempito a dismisura vi spegne l'appetito. Voglia di eleganza e raffinatezza in casa, a tavola e nel look, curatissimo anche nei dettagli. Salute invidiabile, benessere e bellezza fanno il paio. Denaro. Parsimoniosi oculati tra i più organizzati dello zodiaco, avete una grande attenzione per il denaro procurato con la fatica e con il sudore della fronte. Nelle manovre finanziarie potrete, tuttavia dimostrarvi particolarmente spericolati e lasciarvi tentare da speculazioni di ogni tipo. Per lei, se c'è una questione da dirimere tra amici o un malinteso da risolvere, un'accorda da definire, fatelo davanti a un buon piatto cucinato con amore, è la spezia che fa la differenza. Per lui, amore e lavoro potrebbero mai collimare? Perché no, basta che il cuore prenda a battere alla vista della nuova collega, così semplice, intelligente, carina e dal suo sguardo capite immediatamente di aver fatto colpo. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore. Sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.